bambino anzi del tutto ho detto che mi sono salvato anche a tutti i miei colleghi e non aveva il colpo di grazia oddio ma ti è bagato tutto mamma ok crede mi fa cadere dal pozzo mi fa risponare sopra ma sono clicciato il fusibile lo vuoi pure il libro però non so dov'è ehi come faccio scusa cioè io sono così bagato oddio ma che è che in scena madonna mia ma so ok mi so sbagato ma sto striscendo a terra praticamente cioè sono in ginocchio posso fare robe cosa cazzo sto vedendo ok to mort un mamma un Mmm